La data cerchiata nel calendario è quella di venerdì prossimo. La Commissione parlamentare bicamerale sulle banche ha convocato per venerdì l'ex numero uno di BPV Gianni Zonin e l'ex AD dell'Istituto di Montebelluna Vincenzo Consoli. Saranno le prime parole pubbliche, tra l'altro è prevista la diretta tv dopo il decreto del governo, una riunione alla quale hanno già annunciato di voler partecipare i contestatori e le associazioni che rappresentano i cittadini rimasti con le azioni azzerate. Nel frattempo è arrivata anche la decisione del collegio della prima sezione della Cassazione che sia opposta al trasferimento di parte del fascicolo a Milano. Insomma si chiude a favore della procura berica lo scontro fra procura e GIP che ritenne di non procedere con il sequestro di 106 milioni di euro richiesto nei confronti degli indagati vicentini. Un rimpallo di competenze che ha allungato i tempi accorciato quelli della prescrizione e bloccato per poco meno di due anni ogni misura cautelare. Lunedì intanto dovrebbe essere portata a termine la migrazione dei conti correnti di un milione e mezzo di clienti che passeranno da Veneto Banca e BPV a Intesa San Paolo. Intesa avvertito, gli sportelli ATM delle ex Venete nel ponte potrebbero subire temporane interruzioni di funzionamento.